ciao a tutti allora oggi scopriamo questa creazione in resina come ben vedete questa volta diciamo che lo stickers non l'ho messo come metto di solito o dritto o orizzontale ho cercato tipo di mettere di fare la creazione così però ovviamente non so se ho fatto bene se ho fatto male se ho fatto giusto se è carino oppure no quindi giustamente la dobbiamo scoprire per scoprirlo gioco di parole allora potevo non farlo un po più semplice però va bene ora tiro no mi si è proprio distrutto questo stampo così ve la sto spoilerando abbastanza quindi ok devo praticamente comprare stampi nuovi e mi sa che non stai mettendo anche niente a fuoco ok pronti adesso io lo giro ma non so come verrà one two three oddio ce l'ho fatta oddio ce l'ho fatta allora devo dire che dopo la luciderò perché ormai è proprio opaca tranne che a parte che è nella nebbia a parte che è opaca quindi direi proprio di lucidarla quindi nella foto che poi metterò e tutto sarà bella lucidata ma devo dire che è bellissimo ovviamente Deadpool che salta e per questo che volevo fare la creazione un po così non è così non è così ma è proprio così e io sono superi per un tasso di me mi piace davvero tantissimo wow 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 niente quindi adesso lo ucciderò ovviamente voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa creazione perché davvero secondo me merita tanto e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ci sono